panorama di pescina o dispiace con giovane uno nei petti pescino molto stessa bella per scenare è da visitare questa è la strada vicenza sotto ottivano e cucina e qui condice verso il centro adesso un'altra qua vengo con l'abcino che questa è la strada provinciale e conduce all'arezzano i biglietari e di ricerche verso ce l'hanno giusto faccio continuare la mia escursione a piedi